Quindi signore e signori, si arriverà alla fine del dropshipping a causa dell'ultimo aggiornamento di iOS 14 da parte di Apple? Quindi bentornati in questo nuovo video, io sono Elvis e per chi non mi conoscesse di nuovo su questo canale mi occupo di e-commerce, faccio l'imprenditore digitale e sono comunque nel ramo dell'e-commerce da ormai 5 anni a questa parte e volevo appunto affrontare questo argomento del nuovo aggiornamento di iOS 14 da parte di Apple e di come ci sia una certa guerra nell'ultimo periodo tra Apple e Facebook ma quello che ci importa sono proprio le conseguenze che ci saranno per quanto riguarda l'e-commerce e il dropshipping. Ora prima di andare al succo ti condivido lo schermo del PC e queste cose qua, non c'è un vincitore del giveaway dello scorso video per quanto riguarda l'e-book Dropshipping Virtuoso Starter Pack che lo lascio qua appunto e scremi su Instagram così ti faccio mandare il tutto e ad ogni video come in questo do in giveaway il mio e-book Dropshipping Virtuoso Starter Pack cioè la guida per fare dropshipping anche dalle basi e per vincere basta che metti like a questo video, commenti qua sotto, commento inerente al video e sei iscritto a questo canale. Comunque andando proprio al succo del discorso ti condivido già lo schermo del PC e se vai ad esempio sono qua su iPhoneItalia.com ok non è un'affiliazione o qualcosa del genere non mi interessa semplicemente per farti vedere però se vai ad esempio qua quindi Facebook avvisa gli utenti sulle conseguenze di iOS 14 ok quindi Facebook sta spiegando agli utenti quali saranno gli impatti di iOS 14 su pubblicità performance ed esperienza utente all'interno di alcune app qui comunque ci sono un po' di spiegazioni varie c'è anche proprio sul sito di Facebook quindi facebook.com slash business eccetera eccetera quindi how apples iOS 14 bla 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 insomma ti lascio qua sotto il link così te lo puoi guardare tutto quanto però quello che mi interessa è spiegarti nel generale e farti capire cosa sta succedendo e quali saranno le conseguenze sull'e-commerce quindi mi raccomando stai bene attento su questo quindi leggendo qua Facebook continua la sua campagna di sensibilizzazione per far capire le conseguenze che iOS 14 potrebbe portare al mondo pubblicitario e l'azienda infatti sta apertamente attaccando la funzione di iOS 14 che obbliga gli sviluppatori a chiedere l'autorizzazione agli utenti per poter attivare il monitoraggio a fini pubblicitari questo cosa vuol dire questo vuol dire in soldoni che iOS ok Apple quindi iOS 14 fa scegliere dà la possibilità di scegliere agli utenti dentro appunto le app di iOS se essere tracciati oppure meno ok quindi questo vuol dire che ci saranno meno tracciamenti detti proprio in soldoni e vuol dire meno risultati o meglio avere una lentezza maggiore nella lettura dei dati ok quindi questo potrebbe andare a ripercuotersi molto molto gravemente per quanto riguarda l'e-commerce e dropshipping visto che specialmente dropshipping è un modello di business basato proprio sui numeri e come dico sempre dropshipping è proprio è proprio un gioco di numeri ok sposta ancora sto cavolo di microfono e quindi questo comporta che eventualmente i ROAS generali come ad esempio i miei abnormi ROAS che pubblico magari su Instagram e anche gli abnormi ROAS che faccio ottenere i miei clienti tutte queste cose qua si andranno comunque a diminuire ma comunque su questo c'è anche una risoluzione e i problemi maggiori saranno proprio riguardanti gli e-commerce perché comunque se prendiamo un grosso brand come può essere non so Coca Cola la stessa Apple oppure brand molto molto grandi che loro puntano comunque a fare a diviare a fare inserzioni ad un pubblico parecchio parecchio ampio quindi senza andare molto molto nel dettaglio senza andare molto targettizzati capiamo bene che chi viene avvantaggiato è comunque l'inserzionista che ha molto più budget e si va a riferire anche ad un pubblico molto ampio alla parte diciamo dietro la medaglia c'è l'inserzionista che ha poco budget e che gli interessa molto saper targettizzare molto bene gli utenti magari di una nicchia precisa, un'età precisa, una geolocalizzazione estremamente estremamente precisa quindi queste cose qua sono assolutamente molto importanti da tenere in conto ora è alla fine una guerra politica è alla fine una guerra politica ed è alla fine una guerra di soldi perché ovviamente Facebook basa il suo business sui dati delle persone e se Facebook non riesce a tracciare al 100% i dati e anche comunque le conversioni, gli eventi quello che succede proprio fuori da Facebook quindi su un sito web, su Shopify, su un'applicazione su un qualcosa che appunto è esterno e se non riesce a tracciare bene gli eventi, se non riesce a tracciare bene tutto quello che fanno gli utenti e non sa dare dei dati estremamente precisi come lo faceva sempre quasi sempre questo vuol dire che avrà un valore minore ora siamo nell'era delle informazioni questo vuol dire che chi ha più dati, chi ha più informazioni alla fine vince e parlando di queste due aziende quindi Facebook e Apple che sono aziende che fattorano comunque miliardi e parecchi miliardi sì ok si mette in gioco la scusa del ci preoccupiamo dei dati dei nostri utenti ci preoccupiamo della privacy dei nostri utenti tutte queste cose qua ma alla fin fine sono tutte cose che alla fine si riconducono al fatto di detenere più potere al fatto di avere comunque proprio la precedenza dei dati e avere in possesso più dati questo parlando dal lato di Apple questo comporta proprio alcuni lati negativi dal punto di vista degli e-commerce quelli che puntano comunque direttamente alla conversione quelli che puntano direttamente all'acquisto comunque ad un evento specifico di conversione ma ci sono dei modi anche per andare a risolvere me lo sono scritto qua anche quindi giusto per non andare a perdere qualcosina ma i lati tecnici estremamente tecnici li vado a spiegare anche dentro e-commerce virtuoso dentro il corso proprio e andiamo ad affrontare anche i lati tecnici in special modo anche nel gruppo facebook privato però comunque questo qua è un video proprio per farti capire quindi come risolvere? allora prima di tutto bisogna andare a verificare il dominio il tuo dominio dello store quindi se usi Shopify devi andare a verificarti il dominio dentro il tuo business manager come farlo? Basta che vai dentro il business manager basta che vai dentro le impostazioni del business manager e vai appunto a verificarti il dominio nulla di più se vai anche appunto sul sito del business manager di Facebook quindi business.facebook.com comunque facebook.com slash business come ti avevo fatto vedere appunto dove c'è l'articolo da parte di Facebook ok? vedi comunque che facebook ti invita proprio ad andare a verificare il tuo dominio ok? poi successivamente una cosa importante è confermare i propri dati e anche la doppia autenticazione questo cosa vuol dire? vuol dire che facebook sta cercando anche di restringere sempre di più la cinghia nel senso del tagliare fuori chi arriva a fare cose poco attendibili chi arriva magari non so senza partita IVA oppure comunque vendono prodotti di dubbia qualità o comunque in sostanze che siano magari degli scammer o comunque che vendono AK47 oppure che vendono cose abbastanza illecite insomma tutte queste cose qua facebook comunque cerca di dare l'esperienza utente migliore alle persone, ai loro utenti no? e quindi di conseguenza si vedrà sempre più un cambiamento tendente proprio sul accettare solamente eventualmente partita IVA verificate tutto quanto in regola con un dominio verificato con la doppia autenticazione e tutte queste cose qua e se non l'hai ancora fatto ti invito proprio a verificare comunque queste cose qua e fare anche la doppia autenticazione sul business manager perché insomma sicuramente non è una cosa da poco ed è molto molto importante ok? ora dal punto di vista strategico e cosa andare ad adottare quello che ti consiglio è di adottare una strategia di conversione molto più efficace e molto molto più rapida ok? questo per poi andare a fare anche inserzioni in modo ripetitivo quindi fare soprattutto anche retargeting quindi andare a fare soprattutto molta più pressione quindi non andare a fare le solite robe del tipo ci metto 5 euro al giorno di inserzioni su Facebook ads e via non sarà più efficace almeno non lo hai mai stato però adesso non lo sarà proprio per niente quindi ovviamente devi andare a puntare ad avere una conversione il più veloce possibile quindi l'ideale è che già il primo giorno quando eventualmente fai partire una campagna di conversione già il primo giorno devi ottenere il numero massimo possibile di conversioni ok? quindi se hai un prodotto che fa schifo hai una store che fa schifo eccetera eccetera quindi il primo giorno non hai nemmeno un aggiunto al carrello non è una situazione per niente buona quindi devi puntare assolutamente alla conversione più rapida possibile e andare a fare anche ADV molto più pressive mettiamola così quindi fare anche retargeting lavorare sul back end andare a riacquisire i clienti che hanno già acquistato e quindi dare assolutamente anche un'esperienza utente il migliore possibile oltre questo una cosa di fondamentale importanza è andare a lavorare sulla creative ragazzi bisogna andare a lavorare sulla creative io come ho sempre detto sul lato proprio del dropshipping parlando di una scala di priorità almeno il 50-60% del lavoro lo fa il prodotto ok? facciamo sì un 50% del lavoro lo fa il prodotto il 40% del restante lavoro lo fa proprio la creative e la comunicazione che abbiamo quindi come andiamo a catturare le persone e il restante 10% si lo fa lo store ok? non che non sia di nessuna importanza lo store deve essere fatto bene con un certo criterio una certa struttura eccetera eccetera ma la cosa più importante dal punto di vista del dropshipping è 50% prodotto 40% questo è fondamentale la parte di creative quindi quello che devi fare è proprio andare a catturare le persone il meglio possibile il più rapidamente possibile e farle convertire il più rapidamente possibile quindi smettila per favore di andare a fare un copy and call delle inserzioni facendo comunque delle inserzioni che siano dal punto di vista della qualità veramente schifose quindi magari pixelate in 480 o comunque che non si capisce neanche che cosa fa il prodotto quindi come ti ho detto una cosa molto importante è di andare a lavorare veramente tanto sulla creative perché rappresenta una grossa fetta della conversione quindi quando si tratta di funnel la creative, la tua creatività quello che appare la prima volta davanti alle persone è una cosa di fondamentale importanza perché insomma l'abito alla fine fa il monaco e quindi quello che appare per la prima volta davanti alla persona il primo video, la prima creative, la prima immagine, il primo copy è quello che determina proprio il fatto della persona acquisterà o meno perché se hai una creative che fa schifo e non funziona allora comunque di certo non finirai appunto per andare a scalare il tuo story in dropshipping o comunque il tuo business in e-commerce quindi quello che ti consiglio è di affidarti a dei professionisti ti posso consigliare assolutamente questo sito che si chiama AstroAds astroads.com ti lascio appunto anche qua sotto il link loro sono un team praticamente di professionisti di videomaker e quello che fanno è occuparsi proprio di questo di andare a crearti delle video creative veramente buone di qualità come si deve proprio riferite al caso tuo comunque su prodotti dove vuoi andare a fare dropshipping dove comunque vuoi andare a vendere tramite il tuo store Shopify e dentro comunque c'è un team di professionisti di videomaker che ti sappiano fare veramente le video creative fatte veramente veramente ad hoc quindi piuttosto che andare a farle tu che magari dici sì ok ho usato iMovie oppure queste cose qua o un'applicazione sul cellulare che poi magari fa schifo e non riesci praticamente a convertire piuttosto delighi questo lavoro qua fai fare le creative a qualcun altro che siano veramente fatte bene così ti fa ad aumentare il CTR ti va ad aumentare anche le altre KPI e ti va a diminuire anche i costi per click e queste cose qua e quindi quello che ti posso consigliare è proprio di andare a migliorare veramente tanto la parte di creative e di comunicazione ok quindi dopo questo pippone diciamo su iOS 14 eccetera io ti lascio tutti i link appunto di blog, siti sia da parte di Facebook sia da parte di Google insomma tutto quanto te lo lascio qua sotto in descrizione così te lo puoi leggere per bene questo qua era più che altro un video generalista per farti capire quello che sta succedendo più o meno in soldoni però la parte più tecnica la parte più indettagliato visto che si parla di un problema proprio di attribuzione insomma cose abbastanza tecniche però della parte tecnica queste cose qua le andremo a parlare soprattutto anche nel gruppo privato Facebook del corso appunto e-commerce virtuoso e le andiamo a trattare anche molto più su lato tecnico più che altro perché ok è un qualcosa che adesso è solamente teoria per il momento perché andrà in vigore questa cosa dal 2021 ma avrà anche degli effetti negativi questo è vero però dobbiamo vedere proprio sul lato pratico cosa succederà effettivamente come ad esempio c'era la notizia mesi fa del fatto che l'Unione Europea non permetteva più la targetizzazione dettagliata insomma tutte queste cose qua alla fine non è cambiato assolutamente nulla era solamente riferito al lato politico e sociale di alcune cose ma non è praticamente cambiato nulla su questo lato qua ci possono essere dei cambiamenti anche abbastanza radicali su alcune cose lo andiamo ad approfondire anche più là quindi mi raccomando se non so hai un qualcosa da condividere informazioni varie eccetera assolutamente ben accetto appunto lo lasci qua sotto oltre al fatto che puoi vincere l'ebook ma comunque anche a scopo informativo lascia per favore un commento qua sotto e sì per questo video è tutto lo andiamo ad approfondire poi e qui Elvis e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao